Buonasera, benvenuti a tutti ad un nuovo video della tradizione antica. Questa sera parleremo di schiere demoniache, parleremo di demoni e cercheremo di capire come riconoscerli. Cominciando innanzitutto da quella che è la demonologia, così come la conosciamo, e come ci viene raccontata dai libri antichi cabalistici. I demoni sono nient'altro che entità corrotte che si sono allontanate da Dio nel momento quasi stesso della creazione. Si sono ribellate dopo essere state create e si sono ritenute identiche, uguali a Dio. A causa di questa ribellione sono state scacciate dal più alto dei cieli, cioè dal mondo spirituale, e sono state confinate nel mondo etereo. Alcune di queste entità agiscono nel mondo materiale e posseggono gli esseri umani. Mi faccio piccolino lì sopra in alto e andiamo a vedere proprio quella che è la battaglia, secondo questo dipinto, la battaglia che ha portato alla esclusione dei demoni dal mondo spirituale. Alcuni dei demoni, lo vedremo, sono propriamente degli angeli, angeli caduti che hanno perso la loro identità angelica, o arcangeli o cherubini, lo vedremo soprattutto parlando di alcuni demoni. Nelle varie schiere noi abbiamo dei principati, quindi ci sono i quattro principi dell'inferno, e poi ci sono gli otto semiprincipi che saranno, che sono assegnati a ciascuno dei quattro principi, quindi che sono comandati due a due per coppie dai quattro principi dell'inferno. Cominciamo subito con il primo principe dell'inferno, quello più noto, Lucifero, il nome è portatore di luce, è l'angelo ribelle per eccellenza, quello che si è ribellato all'esistenza divina, che si è erto a divinità esso stesso, e che ha il compito di ingannare gli esseri umani. Lucifero è un grande ingannatore, e in questo senso noi vediamo tutti coloro che credono nella religione, potremmo dire satanica, nel satanismo, che sono attratti da un grande inganno, perché in realtà Lucifero è di fatto sì un cherubino, ma poi vedremo in un altro video cosa sono i cherubini, ma di fatto Lucifero è un ingannatore, è colui che dice menzogne, proferisce menzogne, può essere evocato e può essere al servizio degli esseri umani, ma bisogna fare molta attenzione, perché appunto è il re degli inganni. Il secondo principe dell'inferno è Leviathan, è rappresentato come un serpente che si abbinghia su se stesso, questo serpente è di fatto uno dei ribelli di Dio, e viene confinato nell'abisso, si muove nelle acque, e ha la capacità di provocare maremoti e intemperie da un punto di vista marino. Abbiamo poi satan, satan è colui che è detto il separatore, cioè il diavolo tentatore di tutti gli esseri umani e degli esseri viventi, è il terzo principe dell'inferno, quindi fa parte delle alte schiere demoniache, e di fatto ha il suo compito, il suo fine, è quello di separare l'essere umano da Dio, dalla divinità. Andiamo infine a vedere il quarto principe dell'inferno, che è Beliel. Beliel è molto infido, nel senso che, come potete vedere, è rappresentato da un'entità che è sia maschile che femminile, ed è aggrovigliato da una serie di nodi. Questo perché? Perché Beliel tenta l'essere umano attraverso la conoscenza, e cioè quando si vuole conoscere a tutti i costi qualcosa, Beliel interviene. Potremmo dire oggi che in un certo senso Beliel è quel demone tentatore che ci fa credere di sapere qualcosa, quando in realtà non la sappiamo veramente, non ne siamo veramente a conoscenza. Abbiamo visto fino a questo momento quelli che sono i quattro principi dell'inferno, le quattro potestà infernali. Andiamo a vedere, ciascuna di queste potestà ha dei sottoprincipi che gli obbediscono. Quindi cominciamo da quelli che sono gli obbedienti a Lucifero. Ed ecco il primo sottoprincipe, servitore di Lucifero, che è Ashtaroth. Come possiamo vedere, Ashtaroth è rappresentato come un demone rachitico, con delle ali da pipistrello, che cavalca una lupa. In realtà che ingroppa una lupa, quindi che ha un rapporto sessuale con questa lupa. Questo perché è un demone che non soltanto innanzitutto è un servitore di Lucifero, quindi è un demone degli inganni anche lui, ma non soltanto si tratta anche di un demone che in qualche modo attiene alla nostra sfera sessuale, quindi ci tenta con gli appetiti sessuali. Il secondo demone che è in realtà il più fedele a Lucifero è proprio Oriens, è il secondo sottoprincipe dell'inferno, anch'esso servitore di Lucifero. Come abbiamo detto è il più fedele. Viene rappresentato come un re che cavalca un elefante, sopra a delle fiamme infuocate. Questo demone è rappresentato come un re perché viene identificato in alcuni dei re cananei precedenti alla religione abramitica. È un re piuttosto cattivo, viene rappresentato attraverso il fuoco perché si presenta con odore di zolfo, quindi molto puzzolente in un certo senso, ed è anch'esso un re degli inganni, ma soprattutto è custode della porta d'Oriente, quindi in un certo senso cerca di impedire tutti quei meccanismi di rinascita dell'essere umano. Quindi attraverso il suo agito Oriens impedisce all'essere umano di rinascere e di crescere secondo i precetti del divino. Andiamo quindi a vedere poi il terzo sottoprincipe dell'inferno che è un servitore del Leviatano. Questo sottoprincipe lo vediamo come un demone che rapisce il femminile, in che senso. Magot è un demone molto particolare, se ne fa poca menzione, nella Bibbia viene chiamato come un re antico, un re malvagio, è un re al quale vengono attribuiti i sacrifici umani e la magia cosiddetta nera. Abbiamo visto in un video della magia elementale che non esistono colori nella magia, la magia squilibrata, la magia passiva, tutta quella magia che è riflessiva e che non lascia scapito all'azione. Questo demone è un demone che induce l'essere umano ad un percorso di assoluta riflessione senza mai giungere all'azione e quindi ad un percorso negativo, polarizzato sulla negatività. Il quarto sottoprincipe, anch'esso servitore del Leviatano, è Paimon. Paimon viene rappresentato come un demone che cavalca un dromedario con il corpo d'uomo e il viso di donna. è un demone che ha la tendenza ad insinuarsi tra gli esseri umani e che richiede dei sacrifici importanti. I cananei adoravano Paimon come un dio e sacrificavano ad esso dei bambini bruciandoli. Il fuoco è importante per questa figura tanto che egli è custode del sud del meridione, delle porte del meridione e di fatto impedisce all'essere umano di riflettere, di elevarsi allo spirito divino e quindi a tutto ciò che in magia elementale potremmo dire è aria oppure è terra o anche acqua. Ma racchiude l'essere umano all'interno delle proprie passioni. È un demone passionale e da questo punto di vista ci tenta. Andiamo quindi a vedere il quinto principe dell'inferno che è Asmodeo ed è servitore di Shatan. Shatan, come abbiamo detto, è un demone separatore, è colui che separa l'essere umano dal contatto con Dio. E Asmodeo è proprio uno di questi demoni. Di fatto è considerato portatore di ricchezza ma anche portatore di disgrazie. come possiamo vedere esso si manifesta in diversi modi tra cui il bue, il caprone e anche il grifone cioè questo essere mitico che è composto da una testa di leone, un corpo di lupo e delle ali da aquila. Asmodeo è un demone molto pericoloso, un demone che tende a manifestarsi nei confronti dell'essere umano nel momento in cui l'essere umano è sfiduciato dalla presenza del divino. È sottoposto alla prova a tante disgrazie e quindi Asmodeo si rivela, si manifesta per aiutare l'essere umano ad uscire da queste disgrazie. Ma questo aiuto non è un aiuto come possiamo dire non è un aiuto gratuito. Asmodeo in qualche modo ci conduce verso l'oscurità ci separa dalla divinità e cioè l'aiuto che Asmodeo ci dà ha sempre un costo e quel costo è proprio la nostra anima. Andiamo quindi a vedere dopo Asmodeo il prossimo servitore di Satan che è Ariton. Ariton lo vediamo rappresentato come un re che cavalca un drago e che schiaccia i serpenti. Ariton è il demone che distrugge il sapere, distrugge la sapienza separa quindi l'essere umano dal sapere divino dalla sapienza divina. Attraverso Ariton noi avremo saremo tentati ad avere ad avere la conoscenza tutta e subito senza mai approfondire o ricercare quella che è la saggezza divina. Infine andiamo a vedere i servitori dell'ultimo del quarto principe dell'inferno che è il Beliel e cominciamo da Belzebub. Belzebub è detto il signore delle mosche. Questo perché è un demone che in qualche modo si annida nello sporco nell'oscurità e che tende a tentare l'essere umano in tutto quello che può essere uno sporcare la propria vita un rendere la propria vita inferiore. In compenso si hanno grossi guadagni. Belzebub è in grado di riportare tesori nascosti ma è anche in grado di donare all'essere umano una sapienza magica di tipo assolutamente passivo non bilanciato sull'attivo quindi non una magia di tipo costruttivo di tipo creativo ma una magia di tipo distruttivo. Infine l'ultimo servitore di Beliel l'ottavo sottoprincipe dell'inferno è Amaimon Amaimon è un demone che è assolutamente fedele alle lotte di alla contrapposizione delle schiere demoniache contro la luce ed è propriamente quel demone che agisce nel buio quindi quel demone che in qualche modo ci tenterà nel momento dello sconforto nei momenti più bui della nostra vita ecco abbiamo visto cosa sono le schiere demoniache in realtà sono molto più ampie considerate che ciascuno dei sottoprincipi dell'inferno ha al comando almeno una ventina di schiere demoniache quindi di demoni ciascuno con il loro nome e ciascuno con le loro funzioni però ci siamo accorti che in qualche modo i demoni si orientano a tentare l'essere umano sulla base di quattro aspetti principali che sono quello della conoscenza quello della separazione dalla divinità quello dell'essere supremi quindi lucifero soprattutto tenta l'essere umano facendolo sentire più alto più più capace facendolo sentire esso stesso una divinità potremmo dire da un punto di vista psicologico che lo tenta sul piano narcisistico e infine abbiamo visto che l'essere umano attraverso le potestà infernali viene tentato anche da un punto di vista dello sconforto quindi del non rivolgersi a dio nei momenti di sconforto ma del rivolgersi ai demoni o alle cose materiali a questo punto mi sembra di avervi detto tutto se vi piace ciò che vi ho detto ricordate di iscrivervi al nostro canale la tradizione antica a breve nuovi contenuti alla fine di questa settimana avremo la nuova video lezione sulla cabela che parlerà dei libri di Enoch ma non soltanto potrete anche seguirci sulla nostra pagina facebook detto questo Luigi vi saluta vi rimanda alla tradizione antica canale che parla di esoterismo magia soprannaturale ma soprattutto di cabala e vi invita ad iscrivervi al canale perché più vi iscrivete e più io sarò in grado di condividere dei contenuti vi ho detto davvero tutto quindi vi saluto buona serata e al prossimo video ciao